Sale nell'animo un sentimento grave e profondo, di ammirazione e di soddisfazione per la magnifica energia tomata e un'incitazione gioconda per quel fervido impulso, per quel gesto meravigliosamente veloce. La bella e maestosa furia metallica, avvolta dentro una nube di polvere e che la mano dell'uomo regge in tale corsa delirante. Chiamiamo bella la macchina quanto più sembra gonfiarsi per la sua forza e affermarsi sulla terra. Noi vogliamo quindi che la macchina ci riveli anche esagerato, quasi paurosamente, questo suo vigore enorme, questa sua resistenza invincibile in ogni più aspra prova. Grazie a tutti.